Sport e sociale viaggiano insieme, lo fanno, grazie all'impegno organizzativo della cooperativa sociale Zero Barriere e della SDO tra Triatron Team e al sostegno tangibile della Federazione Italiana Triatron, oltre al patrocinio di diversi partner istituzionali. Preparativi di fatto ultimati per la quarta edizione di Bari Zero Barriere 2022 Europe Triatron Paracup, l'evento in programma nel capoluogo pugliese. In questo fine settimana le numerose iniziative di carattere sociale e culturale viaggeranno parallelamente alla disputa domani con partenza alle ore 8.45 dell'unica tappa italiana della prestigiosa Europe Triatron Paracup sotto legida della World Triatron. Oltre 50 atleti provenienti da tutto il mondo saranno in gara per la conquista di punti preziosi per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. A seguire con start alle ore 12 si svolgerà la finale del circuito nazionale di Paratriatron, la cui partecipazione è aperta anche ad atleti stranieri. La Europe Triatron Paracup di Bari 2022 è un appuntamento che abbiamo rincorso da anni, da tanto tempo. Importante per il territorio, importante per l'Italia del Paratriatron che è una potenza mondiale. Medagliata olimpica già a Rio, medagliata olimpica a Tokyo con tre medaglie, una d'argento e due di bronzo. E' un appuntamento importante per il movimento parolimpico italiano di Luca Pancalli che sta investendo molto nella organizzazione di eventi internazionali di qualità. E' la prima volta che si presenta in Italia, l'abbiamo portato direttamente qui in Puglia. Bari che diventa protagonista di questo evento e che in questo momento rappresenta un'Italia intera, un'Italia del Triatron, un'Italia del Paratriatron. Abbiamo qua le migliori nazionali, siamo pronti attraverso questo evento ad affrontare un cammino che ci porterà poi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due gare di Paratriatron saranno articolate sulla distanza sprint, 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo, 5 chilometri di corsa. Lo spettacolo è garantito, il livello sarà molto alto. Uno spettacolo di colori, boh, di gente. La cosa che più è risultato importante a Bari è fare rete, quindi tante associazioni, tanti enti, tante istituzioni che hanno lavorato insieme veramente senza risparmiarsi per ottenere un risultato, speriamo, ottimo e da soddisfare le aspettative dei nostri rappresentanti federali.